Ho partecipato ad Avanti Un Altro, il programma di Paolo Bonolis dove c'è anche lei e la cosa bella è che quella puntata è stata registrata più di due anni fa ecco la reazione con i miei amici E questo non c'è? No no, è la signora, la conosco quella signora, mi ricordo, mi ricordo il messaggio della signora del mio Eccoti! Addio! Addio! Benvenuti al Teatro Uno degli Amici in Roma per la irriverente leggerezza di Avanti Un Altro Buonasera! No! Ragazzo ha 150 bpm Manco lì ero così tanto emozionato eh La signora che mi ha dato dei tacchi finire perché stavo male, ti voglio bene! Non mi ricordo il nome però Bene, e la signora Tiziana ha raggiunto i 75.000 euro e si è andata a sedere sul trono Ma ora è arrivato il mio turno Eccolo! 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 Porco Dio! Anche se da 4 anni a questa parte nel tempo libero Fra ma che voce avevi? Mi dedico alla creazione di contenuti online C'è! Un'altra c**a! Un'altra c**a! Ho superato da poco i 500 mille Lui e la signorina e la signora claudia Tra questi personaggi chi ha più follower su Instagram? Oddio, chi ha più follower? Cristiano Malgioglio, Cristiano Ronaldo Eeeeeeeeh Cristiano ha servito subietto d'argento Ma per favore? Ma temare di zido Allora, il maestro viene sempre assecondato Quindi, a questo punto vorrei attingere da lui Così facciamo una rivincita E' il suo momento Mi toccerei il culo E' il suo momento Faccia vedere quel che tale Che toccatina! Che toccatina! Oh mio Dio! Ti stocco! Allora, vabbè, la buona sorte. Porco 2! Che culo! Cos'è la buona sorte? Bravo, un po' che c'è il tricetto. Oh, Francesca Brancetta. Oh! 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 Il baffetto malandrino. Il baffetto malandrino. Momento della verità. Nel 2019 il primo campiello è stato assegnato a romanzo Madregale senza suono. Che risposta aperta. C'è l'unico indicatore di questo prestigioso riconoscimento letterale. Vuoi vedere l'inizio? È stato assegnato a romanzo Madregale senza suono. Anche se non lo sai. Cristiano Valgiorno. Non ci provo neanche. Andrea Tarabbia. Andrea Tarabbia. No, Fran, Andrea Tarabbia. Porca... Non so bene conoscendo la Tarabbia. No, Tarabbia. E dopo che sei andata alla buona sorte, ho risposto correttamente ad altre domande e posso pescare il prossimo pirigotto. Sì! Bravo! Bravo! Bravo, Cosimo! Ancora. Non finisce più. No. Contento lei? Contento lei, Cosimo. Come vuole? Come vuole lei? E l'hai fatta. E basta. No, basta. Lei ha consumato, basta. E quindi? Ma... Ma che sta mazzurro? L'ha consumata? Paolo, prego, dico... Posso? Con me? Sì. Ma perché? Ma tu l'hai... Non lo so. Sono stanca. Ma non ti l'hai fatto prima? No. No. E se è fatto solo a te? Ah! Ah! Che marzioni! Che tocco delicato che hai! Come hai le chiappe? Molto dure, Paolo. È vero. Luca, fraccide. Abbastanza fraccide. Attenzione. La mala sorte! Quando fai il balletto... 75! 75! 75! Oppure 50.000? O 50-70? Regà, o 50-70? O 50-70? Sono un po' stanco. 75! Ma che va? Sì! 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 È fantastico! Oh, tutte gnocche per il Kazoo! Incredibile! Ma gli hai preso il numero? Cosimo! Oh! Chi si rivede? È vero. Ma c'è anche Kazoo, ma è vero? Chi si rivede? Un attimo, lo so. Poi. 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 Fai anche parte della padella. Fai schifo, fai. Che preferisci da guardare? Porto un po' lo c'ha, raga. Fra, ma non ha mai toccato nessuno come ha toccato te? Io non sentivo niente. Nono, Fra. Non ha mai toccato nessuno come ha toccato te. La bonus è stata una piacevole distrazione, ma comunque ho risposto correttamente a tutte le altre domande. Oggi incrociamo le dita per il prossimo minigosto. Si soffiano sul mondo. Bravo! Vai così! Vai così! Vai così! Ma le sei tutte, bro! E' raddoppiato con la bonus. Top, 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 top! Ah, badabam! 125.000! Tondi, tondi! E il re si va a sedere sul suo trono! 125.000! Vecchio marzionale! 125.000! E ce li intaschiamo tutti, signori! Dopo che mi sono seduto sul trono, qualcuno ha provato a rubare il mio poster, ma nessuno ce l'è uscito. E' arrivato il momento del gioco finale. Cosimo, giochi per 225.000 euro! Oh! Assurdo! Yeah! Oh, Dio! Quanto desidero! Liberatore! Guarda quanto so' concentrato! Qui saliva l'anzietta, eh! Oh, mio Dio, bra! Oh! No! 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 No, 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 no! Stacca, stacca, stacca! No, no, no! No, 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 no! No, attacca! No, fra, sei serio? No! Assurdo che cerca Meliaset Play sul telefono! Meliaset, Meliaset! Porco due! Meliaset Play, fra! No, ma che sfiga, però! No, ben credibile! Alla fine! Incredibile! Cazzo, cazzo! Che cazzo! C'è, è quasi come se Belletti avesse spento l'interruttore! Incredibile! Che cazzo, 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 cazzo! Che cazzo, 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 cazzo! Che cazzo, cazzo! Che cazzo, cazzo! No, ripongerà, ripongerà! Un prontuario di informazioni è detto... Vuoi ripetere l'aereo? Curriculum o vademecum? Vademecum! Vademecum! Olimpio o Amiata? Gli dè abitavano? Amiata! Pellegrino o Eremita? Eremita! Curriculum o vademecum? Curriculum! Ron o Raff? Il miglior amico di Harry Potter? Raff! Figaro o Lucifero? Nel film Cenerentola c'è gatto? Figaro! Senna o Tamigi? Quale fiume sfocia nella manica? L'ansia è al padre! Tamigi! Uova o burro? I savoiardi sono biscotti che si fanno senza... Uova! Lungo o breve? Tra i quattro Vangeli... Minchia, brava, sei un grande! Oh, ma è difficilissimo sto gioco! Breve! Olimpo o Amiata? Amiata! Pellegrino o Eremita? Eremita! Curriculum o vademecum? Fortale... Curriculum! Pro? Olimpo o Amiata? Amiata! Pellegrino o Eremita? Esiste il falco? Eremita! Curriculum o vademecum? Ron o Raff? Il miglior amico di Harry Potter? Figaro o Lucifero? Nel film Cenerentola? C'è gatto? Figaro! Senna o Tamigi? Quale fiume sfocia nella manica? Concentrati! Tamigi! Grande piccolo salernitano! Sta che se lo fai! Uova! Lungo o breve? Tre quattro Vangeli! Quello di Marco è il più? Lungo! Avanza o indietreggia? Nel tiro alla fune vince la squadra che? Avanza! Mosche o Zanzare? In certe notti di Liga Bue si nominano le? Zanzare! Olimpo o Amiata? Amiata! Pellegrino o Erenita? Erenita! Curriculum o vademecum? Curriculum! Ron o Raff? Raff? Il miglior amico? Figaro o Lucifero? Nel film Cenerentola? Figaro! Senna o Tamigi? Quale fiume sfocia nella manica? Tamigi! Uovo o Burro? E se vogliamo sfocia? Quale uova? Lungo o breve? Tre quattro Vangeli con lo di Marco? Lungo! Avanza o indietreggia? Nel tiro alla fune vince la lanza? Mosche o Zanzare? In certe notti di Liga Bue? Mosca! Parigi o Vienna? La regina Pagliantoniente è data a? Parigi! Paperino o Topolino? Macchia Nera è uno dei nemici di? Te fermo a di tinta! Sicuro! Paperino! Inglese o americano? Jim Morrison era un cantante? Americano! Certo che era americano! Bravo! Non sapevo quante domande mi mancavano, eh! Stai usando una strategia... Ah, non c'è scritto? Non lo vedi? Cioè, c'è un proiettore in alto ma quando sei lì non capisco un cazzo, non capisco con nulla. Cioè, lui stava parlando e io non lo sentivo. Non capisco un cazzo. Lavorare su una cifra importante, hai 18 anni e quindi qualunque cifra è importante. Devo dire inglese, giusto? In inglese. Attento! In ero concentrato. Olimpo Amiata, gli dà... Amiata! Pellegrino e Remita, il falco Curriculum o Bademecco, il contuario Ronno Raff, il mio amico di... Figaro Lucifero, le faccire è Senna o Tamigi, quale fiume sfocia nella manica? Tamigi! Uovo o Bunga? Lungo o Breve, tra i quattro Vangeli, quello di Marco e il Piungo. Avanza o Inietreggia nel tiro a... Avanza! Mosche o Zanzare? Mosca! Parigi o Piena, la regina Maria... Parigi! Paverino o Tobolino, Macchia Nera è uno dei nemici di... Paverino! Inglese o Americano, Jim Morrison... Inglese! Gioconda o Dama con l'ermellino, quale dipinto è più grande? Dama con l'ermellino! La Volpe o il Pipistrello, chi va in letargo? Il Pipistrello! Volpe! No! L'Azzurro o Smeralda, Sandro V, è una località della costa... L'Azzurro! Smeralda! Lungo o... Oh! Sono un tipo di pasta... Oh! Lungo! Oh! Oh! Pellegrido o Eremite, esiste il palco curriculum o fateneco, un portare in corso di Ronno Raffa, il miglior amico di... Ralf! Figaro Lucifero, nel finti aderenza... Figaro! Ralf! Ralf, spettamente amici! Novo, burro e se voglia un lungo o breve, i quattro... Dai! Oh! Fra! Cinque secondi! Fermo a sto cazzo! Su 30, 29, 28, secondo me, io stimo 28! Paglietta, paperino, tomonino, macchianera, uno degli amici di Eno! Bravo! 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 Ansia mille! Bravo Cosimo! No, 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 bravo! Quella che hai sbagliato ora, è Saint-Tropez, è una località della costa azzurra, quindi devi dire Smeralda... No, ho sbagliato quella successiva... Eh? Ha sbagliato successiva... Ah, lunga o corta, i maccheroni alla chitarra sono un tipo di pasta... Lunga, quindi devi dire corta La smeralda è corta Smeralda corta Cioè vedi cercavo di farmelo entrare nel cervello Ma cercavo di farmelo entrare nel cervello Ma anche lui Perché qui è tutta memoria breve Si distraggono Cioè te lì che dici Dai, dai Mi dica lei Però voleva che vincessi Tu non li dissi No, io pensavo a tutt'altro 29.000 euro 29 Olimpo o Amiata Gli dèi abitavano sul monte Amiata Pellegrino o Eremita, esiste il falco? Eremita Curriculum o va de me Curriculum Stai calmo Ron o Raffa, il miglior amico di Arifal Figaro Figaro Senna o Tamigi Quale fiume sfocia nella manica? Tamigi Uovo o burro I Savoiardi sono biscotti Uovo Lungo o breve Tra i quattro Vangeli Quello di Marco e il lungo Avanza o indietreggia Nel tiro la fuga Avanza Mosche o zanzare In certe notti Mosche Parigi o Vienna La regina Maria Parigi Paperino o Tobolino Macchia nera è uno dei miei Paperino Inglese o americano Jim Morrison Lo sapevo inconsciamente Gioconda o Dama con l'ermellino Quale dipende? Dama con l'ermellino La Volpe o il Pipistrello Chi va in letargo? Volpe Azzurra o Smeralda Sai trovare una località della costa? Smeralda Lunga o corta I maccheroni alla chitarra Sono un tipo di pasta Corta Bravo Aumenta o dilinuisce Scalando la marcia La velocità Aumenta 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 Di aumento Aumenta Caldo Si svolgiano Quando arriva il Caldo Bianchi o rossi Gli anticorpi Sono prodotti Non si mette davanti La fotocamera Boni Rossi Cuore o amore Qual è l'ultima parola Della canzone del sole? Amore Nooo L'ultima 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 Non ci credo Nooo Sono di scotta Il finale più brutto Nooo Bravo Scusi Oddio Non ci credo Non ci credo Ma tu che vabbè Ma io sto di forse Bravo Bravo Quanto sei tornato a casa deluso Troppo Troppo No non me ne fregavo un c***o in realtà Come met me No non mi piace No mi piace Otra 準備